Ieri da Toissin una vera e propria festa per i bambini, gonfiabili, giochi, truccabimbi, spade laser, tutto per far felici i tanti piccoli che hanno affollato il negozio, sperando di essere fortunati e stratti. Il momento più atteso infatti è stato quello del sorteggio che ha permesso a un bambino di realizzare un sogno, due minuti per riempire un carrello di giochi da portarsi a casa. Questa iniziativa è diventata un appuntamento consueto, praticamente la ripetiamo, è sempre l'ultima domenica di novembre, siamo anche una giornata molto importante perché è quasi a ridosso del Natale, che è la festa più importante per i bambini che aspettano poi i loro doni, le loro richieste più importanti e fanno anche le letterine a Babbo Natale. E il piccolo vincitore ha dimostrato di essere anche generoso, scegliendo i giochi non solo per lui ma anche per i fratellini più piccoli, lanciando a tutti un bel messaggio. Ma questo mi sembrava giusto anche nei loro confronti perché non è che se io vinco una cosa non la devo condividere con gli altri, mi pare giusto anche questo, in più sono scout, è una legge.